La storia di Sofia e Mohamed È sempre migliore È vero o non è vero? Noi siamo venuti fuori adesso dal colloquio con un'azienda che vuole dare un lavoro a te Ora ti faccio subito una domanda Che impressione hai avuto? Bellissima, mi sono sentita a casa C'è la signora, che non posso dire il nome Questo resta perché non diciamo neanche dove siamo Veramente una grande famiglia, ci hanno accolto, non come dei figli, forse di più al primo impatto E non sempre trovi questi datori di lavoro avanti Quindi mi sento molto fortunata, non vedo l'ora che arrivi lunedì per iniziare questo lavoro Però in questo voglio anche ringraziare Veronica Perché mi ha dato la possibilità di potermi truccare, sistemare Renderti sicura di te stessa guardandoti allo specchio Che è anche un fatto importante Ma anche senza trucchi, lo dico che sembra che sembra bella Che la natura è più bella, non è che mettendo i trucchi Altro che la crisi Che complimenti Tino, mai che lo dici a me, na voi Ti devo truccare? Certo La minigono non me la metto No, la minigono non me la metto E poi Antonio, vorrei rispondere a tutti quei commenti che mi stanno massacrando su Youtube Dove dicono che io ci ho tratto male Moame Voglio dire che... Guarda, ti posso dire una cosa Non lo tratti peggio di quanto mia moglie tratta me Qualsiasi donna tratta il suo uomo Allora, in questi video nessun ragazzo viene maltrattato, voglio dire Metteremo la scritta In questo video nessun ragazzo viene maltrattato Solamente che eravamo in un periodo veramente di forte stress Perché una coppia che vive per strada Quanto tempo avete resistito? A che cosa? Cioè, da quanto tempo dovete dormire per strada? No, da 8 mesi No, siamo arrivati a 10 mesi ormai 10 mesi Sono 10 mesi Sfido chiunque a stare tranquilli La nostra intimità, il nostro rapporto di prima Perché quando sei per strada ti mancano tante cose Che è difficile spiegare Come è andata la notte in hotel? No, benissimo È andata bene, siete stati bene? Sì, secondi Hai potuto lavare le dimenti, tutto qua Ho lavato i vestiti di Mohamed Così Così, almeno siamo un po' più presentabili È stato bello anche l'abbraccio che avete avuto con questi signori L'ho sentito proprio caldo Sì, proprio una famiglia Non è una cosa giusto per No, si vede che sono gente di cori Si sono messi a disposizione Sì, sono gente brava Ho trovato un avvocato disponibile ad aiutarmi A vedere i miei figli Quindi E so che Lo vuoi dire, lo vuoi dire Io ti direi Dillo tanto Sì, però l'unica cosa Voglio dire, Salvatore Se tu stai guardando questa intervista Dammi il numero del procedimento Come si chiama per i bambini Del tribunale minorile In modo tale che io posso azionarmi Lui possa, diciamo, accedere Per poter capire cosa fa Per poter andare avanti Perché ora sto riprendendo in mano la mia vita Grazie ad Antonio Sto trovando un lavoro Quindi non posso dire che già ce l'ho Però sta per arrivare il lavoro Questo dipende moltissimo da te Io ho tanta voglia Rispetto al colloquio che io da esterno ho visto Ti posso dire che molto di questo lavoro dipende da te Perché loro non chiedono altro che lealtà e onestà Perché tu non sai fare niente No Loro hanno tutta la voglia di insegnartelo Quindi ci sono tutti i presupposti È vero Sì, è vero È un luogo dove ci sono solo donne Quindi Mohamed può lasciarmi tranquilla, lavorare Non è solo quello È anche proprio il clima che si respira Sono convinto che lui si sente anche più tranquillo Rispetto a essere trattata bene Capito? Quello è l'importante È l'importante di questo Che sta bene, che sta contento Voglio fare un appello Che cerco un veterinario per Willy Perché lui adesso è in calure Quindi sono molto preoccupata per lui Quando vedi i cani se ne scappa A fare il pomodoro è scappato un paese Sì, è scappato diciamo cinque volte Anche anni di più Se se ne scappa, se ne va, non tornare Se non vado io a prenderlo Se c'è un veterinario in grado di poterci aiutare Noi siamo qua Speriamo che questo Mangia tutti i giorni Willy Sì Tutti i giorni C'ha le crocchette che non le mangia Quindi chi vuole donare non ci date le crocchette Non mangia le No, solo scatolette, avanzi di pasta Il cibo Cibo, sì Willy è più una persona che un cane No, ma lo vedi, sembra veramente un bambino E poi voglio chiedere una cosa a Mohamed in diretta Mamma mia, mi allontano Perché non vorrei che la roba Ti senti maltrattato da me? Come ti senti? Noi abbiamo questo carattere Anche forse perché ci amiamo E siamo così legati Per questo carattere che abbiamo Vorresti chiudere con me? Ma no, a che cosa devi chiudere? Allora lo scriviti, non fai scorrere Lo scroll In questo servizio Nessun ragazzo C'è una coppia che si ama Nessun ragazzo È stato maltrattato E' stato maltrattato E' così, va bene Poi vi diremo compiutamente invece ciò di cui ha bisogno Mohamed Perché anche Mohamed ha bisogno di una esigenza molto particolare per evitare il peggio Ma lo diremo ancora in seguito Nella prossima puntata Allora speriamo che già la tanta carne al fuoco che abbiamo messo oggi Possa in qualche maniera trovare un minimo di risposta Antonio un'ultima cosa, voglio ringraziare Eh dai, tu che cosa c'entri? No per dire Tu che cosa c'entri? Un ragazzo di nome è Andrea che abbiamo conosciuto ieri sera Che ci ha riconosciuti subito E mentre andava da sua madre ci ha lasciato a noi latte e biscotti Che erano per sua madre e suoi fratelli Perché ha detto che io sono Cioè la mia storia somiglia tanto a quella di sua madre di tanti anni fa Quindi si fermò a salutare e ci ha lasciato il latte e biscotti Volevo salutare Andrea E' stato veramente un ragazzo giocato, rispettoso e bravo Un bravo ragazzo In fondo si è trattato di latte e biscotti Però quello che c'è dietro quel latte e biscotti è quello che fa muovere noi Perché vuol dire che quella storia ha toccato più di altre E lui vi ha riconosciuto Così come loro sono stati molto fortunati Lo dico perché gli imprenditori non hanno voluto Non vogliono metterci la faccia Non per chissà quale situazione Intanto perché noi abbiamo chiesto di non rivelare dove siamo Quindi loro di buon cuore hanno deciso che va bene così Ma perché si è visto chiaramente che Pino, l'imprenditore, è rimasto colpito dalla storia Cioè se non fosse rimasto colpito da quello che tu hai detto, da quello che voi avete detto Probabilmente non si sarebbe mai fatto avanti Anche se mi dispiace che in questa intervista è uscito il peggio di noi Ho finito Antonio di parlare Hai finito di parlare Meno male Per ora e solo per ora è quasi tutto Non si bacia evidentemente l'hotel è quasi tutto Presto vi raccolteremo come va avanti la storia Mi raccomando Dai ciu ciu Te gui edici